C'è anche un uomo di 64 anni Stretta del governo nei confronti dei Novax Dallina il 166 mila euro per i parenti Dulana d'Orazio Parla la titolare dell'orditura Avrei dovuto vigilare di più Vendita simulata di un capannone Per non ripianare il debito da quasi 600 mila euro Denunciati due imprenditori Macabra scoperta, viaccia, testa di cane Reinvenuta in un campo L'onda sismica dell'eruzione di Tonga Registrata anche a Prato dall'Istituto Geofisico Una buona serata dalla nostra redazione Bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato 793 nuovi contagi e purtroppo anche tre decessi È quanto riporta il bollettino Covid di oggi nella provincia di Prato Le vittime sono tre uomini di 64, 81 e 94 anni Che erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano A livello regionale il tasso di positività è sostanzialmente invariato 17,9% Continuano a crescere i ricoveri negli ospedali Oggi sono 11 in più E intanto è stretta del governo nei confronti dei Novax Ecco l'elenco delle attività ritenute essenziali In cui si può accedere senza Green Pass Senza la certificazione verde base Non si può nemmeno ritirare la pensione alle poste Il Premier Draghi ha firmato il DPCM Che indica le attività commerciali In cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza Green Pass L'elenco comprende una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso Ritenute fondamentali per garantire le esigenze essenziali della persona Dal primo febbraio si può entrare senza certificazione verde In negozi di alimentari, per mercati e supermercati, discount Oltre che negli esercizi in cui si commerciano al dettaglio Alimenti per animali domestici, articoli igienico-sanitari, articoli medicali e ortopedici Comprese nell'elenco farmacie e parafarmacie Negozi di ottica, esercizi per la vendita al dettaglio di combustibile Per uso domestico e per riscaldamento E per l'acquisto di carburante È sempre consentito l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie Anche per gli accompagnatori Questi ultimi però, per rimanere all'interno delle strutture residenziali Socioassistenziali, sociosanitarie e hospice Dovranno aver fatto il booster oppure avere l'esito di un tampone negativo Effettuato inoltre le 48 ore precedenti Se hanno solo due dosi di vaccino I cittadini senza Green Pass possono entrare negli uffici giudiziari O di pubblica sicurezza per presentare denunce Il governo stringe le maglie delle attività che i non vaccinati possono svolgere Nell'elenco di quelle consentite salta all'occhio l'assenza Della possibilità del ritiro della pensione in ufficio postale È saltata la norma inserita nella bozza del decreto Che definiva la riscossione della pensione Un'esigenza primaria da svolgere senza Green Pass Assenti nell'elenco anche le tabaccherie Per comprare le sigarette sarà necessaria la certificazione verde E cambiamo argomento Morte di Luana Dorazio L'INAIL calcola in 166 mila euro L'indennizzo per i parenti della 22enne Vittima di un infortunio sul lavoro Luana Coppini, titolare dell'orditura In un'intervista al settimanale Oggi ammette Avrei dovuto vigilare di più Ai parenti di Luana Dorazio La giovane operaia morta il 3 maggio scorso In un incidente sul lavoro Nell'orditura A di Montemurlo Spettano 166 mila euro di indennizzo Da parte dell'INAIL È quanto ha calcolato l'istituto In base alle sue tabelle Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Nazione Nel settimanale Oggi In edicola da ieri È invece pubblicata un'intervista a Luana Coppini L'imprenditrice Indagata assieme al marito Daniele Faggi E al tecnico manutentore esterno Mario Cusimano Per la morte della 22enne apprendista operaia Ha parlato per la prima volta dalla tragedia Ammettendo alcune responsabilità Mi sento responsabile della morte di Luana Avrei dovuto vigilare di più Dice la donna Sono un'imprenditrice operaia Lavoro anch'io davanti alle macchine In un altro reparto Dovevo essere più presente anche in quello Dove lavorava lei Siamo una piccola azienda Avrei potuto Sulla manomissione dei dispositivi di sicurezza Dell'orditoio In cui la giovane ha perso la vita Luana Coppini ha ribadito di non averlo mai saputo E di non sapere chi possa aver agito senza dirle niente La stessa versione fornita al PM Durante l'interrogatorio di garanzia È riferita più di recente dai suoi legali Barbara Mercuri e Alberto Rocca Lo scorso dicembre la procura di Prato Ha chiuso le indagini Chiedendo il processo per i tre indagati Che devono rispondere di omicidio colposo E rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche In vista dell'udienza preliminare Fissata per il 7 aprile Coppini ha fatto sapere di aver scritto una lettera All'assicurazione della propria azienda Che ancora non si è espressa Sul risarcimento ai familiari della vittima Per sollecitarla a provvedere Secondo giustizia ed equità Vendita simulata di un capannone Per non ripianare il debito Da 587 mila euro con l'erario La Guardia di Finanza denuncia due imprenditori Scatta il sequestro preventivo di immobili E conti correnti finalizzato alla confisca Due imprenditori cinesi sono stati denunciati Per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte E hanno subito il sequestro preventivo Finalizzato alla confisca Di un complesso immobiliare E dei conti correnti loro riconducibili Il provvedimento è scaturito Dalle indagini della Guardia di Finanza di Prato Sulla sospetta cessione Di un fabbricato industriale Da parte di una società immobiliare cinese Attiva nel macrolotto Sulla quale grava un debito con l'erario Per oltre 587 mila euro La società aveva già subito varie iscrizioni a ruolo Per il recupero della somma Ma ha tentato di spogliarsi del capannone Del valore di oltre 600 mila euro Che costituisce l'unica garanzia Per il soddisfacimento del debito Maturato con lo Stato In particolare l'immobile è stato ceduto Ad un'altra società immobiliare Con sede a Pistoia Rimasta fino a quel momento inattiva La cui rappresentante legale Anch'essa cinese In periodi di poco anteriori al rogito Era stata dipendente Della società venditrice Ed aveva mantenuto Stretti rapporti personali Con l'immobiliarista Fino a poco tempo prima Suo datore di lavoro È stato tra l'altro appurato Che la vendita del complesso immobiliare È avvenuta senza un reale passaggio di denaro Tra le parti Ma tramite l'accollo del mutuo ipotecario In essere E che in prossimità del pagamento delle rate Venivano versate le necessarie Somme di denaro contante Sul conto della società subentrata Inoltre Subito dopo la transazione La ditta cedente È stata di fatto svuotata E posta in liquidazione Sulla base di tali elementi Le fiamme gialle hanno ritenuto plausibile L'ipotesi di una vendita simulata Del fabbricato Nel contesto di un'operazione Preordinata a sottrarre al fisco L'unica garanzia patrimoniale Posseduta dalla società Da qui è scaturito il sequestro Preventivo dei beni Fino alla concorrenza Dei 587 mila euro Corrispondenti al debito Con il fisco Entra nel vivo la corsa Per il col Partiti in fibrillazione Per eleggere il successore Di Sergio Mattarella E noi abbiamo raccolto Le voci dei parlamentari Pratesi Sentite Lunedì Prima votazione Del Parlamento In seduta comune Per l'elezione Del nuovo presidente Presidente della Repubblica Sono ore concitate di incontri Di intese Di tentativi Di trovare una quadra Nei vari gruppi Il deputato di Coraggio Italia Giorgio Silli Da segretario di presidenza Della Camera Avrà un ruolo attivo Nello svolgimento Delle operazioni di voto Nel mio ruolo di segretario Della Camera Io avrò l'onore Di partecipare attivamente Alle operazioni di elezione Partecipando insieme Ai miei colleghi Alla chiama Quindi per singolo deputato O senatore Quindi verrà chiamato Ogni singolo deputato O senatore Il quale dovrà prendere Una scheda Una matita Entrare nel cosiddetto Catafalco Votare E per le operazioni Di spoglio Cioè saremo noi Membri dell'ufficio Di presidenza Nella Camera A maneggiare Fisicamente Le schede E a leggere Quanto è riportato Affinché il presidente Lo appunti E faccia un conteggio Finale Rivediamoci La settimana prossima Con la speranza Che il presidente Sia stato eletto E io aggiungo A maggioranza qualificata Cioè con i due terzi Del Parlamento E non solamente Con il 50% più uno Questo sarebbe veramente Garanzia Di un orizzonte Un pochino più armonioso E sereno E soprattutto Di imparzialità istituzionale La senatrice del PD Caterina Bini Non disdegnerebbe Un capo dello Stato Donna Visto che Noi non abbiamo mai avuto Né un presidente Niente della Repubblica Donna Né un presidente Del Consiglio Dei Ministri Donna Sarebbe io credo Un segno Fondamentale Per dare un'idea Che diciamo Le donne Hanno un peso importante Nella società E' giusto Che lo abbiano anche All'interno Delle istituzioni Però come in tutti i casi Poi oltre al genere Dobbiamo guardare Al profilo Delle candidature Alle caratteristiche Per la deputata Di Forza Italia Erika Mazzetti C'è un solo nome Quello di Silvio Berlusconi Noi come centrodestra Tutti insieme Dai partiti più grossi A quelli più piccoli Abbiamo indicato Nella figura Del presidente Berlusconi La persona più adatta A questo ruolo Sia per quello Che ha fatto Negli ultimi 27 anni In politica Ma anche Soprattutto per quello Che ha fatto Nella vita reale Da imprenditore Da uomo di televisione Di sport Di tutti i settori Ha fatto sì Che l'Italia Fosse grande nel mondo Vedremo se Silvio Berlusconi Confermerà La sua volontà Di candidarsi Se no Comunque procederemo Insieme agli alleati A scegliere Un nome comune Che possa essere Poi conseguentemente Un nome Il più condiviso possibile Episodio inquietante Ieri a Via Accia Dove in un campo Adiacente A Via Pistoiese È stata ritrovata La testa Di un cane A fare la scoperta È stata una residente Nella zona Che ha chiamato Le guardie zofile Di Ert Prato Intervenute rapidamente Sul posto Per occuparsi del caso Che è stato segnalato Anche alla nostra redazione Ad una prima ispezione Si tratterebbe Di un cane Di taglia medio grande Che avrebbe subito La decapitazione Nella zona circostante Non sono però State trovate Né la carcassa Né altre ossa La testa del cane È stata sequestrata Dalle guardie zofile Che hanno avviato I dovuti accertamenti E notizieranno L'autorità giudiziaria L'ipotesi più accreditata È che qualcuno Per cause ignote Abbia ucciso il cane E si sia disfatto Di una sua parte Un triste scenario Che configurerebbe Il reato di uccisione Di animali La crisi dello sport E la situazione Degli impianti sportivi In città Con particolare riferimento Alle piscine Se ne è discusso Ieri sera Parliamoci chiaro Entro febbraio Sarà installato Il nuovo pallone E riaprirà dunque La piscina di Via Roma Ad annunciarlo L'assessore allo sport Luca Vannucci Novità anche per quanto riguarda La piscina olimpionica di Iolo Vediamo È un rapporto fatto di alti e bassi Quello fra gli impianti natatori E la città di Prato L'interesse ai corsi di base Del CGFS A quelli agonistici Delle società sportive Del territorio Al noto libero e elevato Ma al contempo Si scontra ciclicamente Con impianti vecchi Che presentano problematiche Di vario tipo E che costringono Spesso l'amministrazione comunale Ad interventi Di manutenzione straordinaria L'ultimo esempio È stato il crollo Del pallone Della piscina di Via Roma Mandato KO Dal maltempo E che ha lasciato Le società sportive Agonistiche del territorio Senza la struttura Di riferimento Dovendosi arrangiare In altri impianti Con orari spesso scomodi Per gli allenamenti Poi a fine anno È arrivata anche La beffa della piscina Di San Paolo Il generatore elettrico A servizio del polo natatorio Della palestra E delle scuole Si è rimediabilmente rotto E la piscina È tornata in funzione Solo lo scorso 7 gennaio Grazie anche all'impegno Del gestore CGFS Al momento Le piscine pratesi Sono tutte operative Fatta eccezione Per quella di Via Roma Anche se stanno facendo I conti Con la stangata Del caro energia Che impatta Per decine di migliaia Di euro Sui conti delle utenze Per quanto riguarda Via Roma Invece la ditta Che monterà il pallone È stata trovata E c'è stato l'incontro Fra azienda e comune Per definire Il cronoprogramma Del cantiere I tempi si parlava In febbraio In tutto febbraio E si spera veramente Che in tutto febbraio Si riesca a fare Ripartire Via Roma Ripeto L'incognica da Covid Non c'è solamente Per l'altro C'è per tutto Purtroppo E c'è anche con le ditte Infine c'è il futuro Che si chiama Piscino L'impionica di Iolo Dopo una lunga attesa La ditta Lombarda Che ha curato il project financing Ha presentato il piano in comune Adesso è al baglio Degli uffici tecnici Se non ci saranno Intoppi burocratici La procedura di gara Potrebbe essere attivata Velocemente Se tutto va come Si spera Che sia tutto a posto Prenderà l'iter Dentro del comune Per poi essere portata a gara E arrivare A avere una 50 metri Una 50 metri Vera Una 50 metri Che non sia sotto un pallone Estra ha commissionato Un'indagine Per analizzare Le difficoltà Economiche Dei cittadini A coprire Le spese energetiche Vediamo quindi I risultati In questo servizio Le bollette energetiche Sono la prima voce Di spesa Per il 76% Degli italiani E il costo Più difficile Da sostenere Per due cittadini Su dieci Sono i dati Che emergono Dall'indagine Della povertà energetica E le misure Per fronteggiarla Commissionata Da Estra All'istituto Piepoli Per analizzare Le difficoltà economiche Dei cittadini A coprire Le spese energetiche Il tema Del caro energia D'altronde È attualissimo I rincari Degli ultimi mesi Hanno alzato notevolmente Le spese Per le imprese E anche per le famiglie Gli effetti Si vedranno a breve Il 21% Degli intervistati Dichiara di fare fatica Da arrivare a fine mese Il 14% Attribuisce Questa difficoltà Alle bollette energetiche Bisogna investire Molto sulle rinnovabili Bisogna investire Su tutte quelle Fonti di produzione Senza Ideologia Senza scelte Pregiudiziali Anche la questione Del nucleare Può essere Presa in considerazione Come? Ovviamente Anche lì Spingendo sulla ricerca Spingendo Perché se domani Trovassimo Un modo di produrre Energia Dal nucleare Riducendone i rischi O azzerando i rischi Io penso Che questo dovrebbe essere In un pacchetto Perché come sempre Se vogliamo evitare Gli shock di mercato Bisogna puntare molto Su Più opportunità Più soluzioni Quindi un mix Di produzione energetica Mette a riparo Domani Da ulteriori shock Che potrebbero Comunque verificarsi Anche per gli enti locali L'aumento dell'energia Si farà sentire Aumentando le spese E riducendo la capacità Di investimento Il comune Cercherà comunque Di sostenere le famiglie Più fragili Per attutire Gli effetti dei rincari Noi diciamo Abbiamo ampliato Il raggio di intervento Con i bonus idro Con i bonus bollette Per sostenere Quelle famiglie Che sono in difficoltà Capiamo che non è questa La risposta Anche perché Lo dico Sommessamente Ma questi rincari Delle bollette Poi dell'energia Incidono anche Sui nostri bilanci E purtroppo Noi abbiamo Un bilancio robusto Fortunatamente Lo possiamo gestire Però ci toglie Margini Per fare altri interventi La cronaca Secondo arresto In pochi giorni Eseguito Dai carabinieri Del 6 Battaglione Di Firenze Che stanno Operando Sul territorio In supporto Dei militari Dell'arma di Prato Stavolta Si è trattato Di uno spacciatore Di 33 anni Cittadino marocchino Colto in flagrante Dopo che aveva ceduto 5 dosi di hashish A due connazionali In piazza San Domenico L'omera Già stato notato Dai carabinieri In atteggiamento Sospetto Tanto che avevano Deciso di monitorarne I movimenti Fino a riuscire A coglierlo in fallo L'onda sismica Generata Dall'eruzione Del vulcano A Tonga È stata registrata Anche a Prato Dall'istituto Geofisico Ne abbiamo parlato Con gli esperti Della fondazione Parseca Ha viaggiato Per un'ora Percorrendo Circa 13.000 km All'interno Del pianeta Terra Fino a intercettare I sensori Dell'istituto Geofisico Toscano È l'onda sismica Provocata Dall'esplosione Del vulcano Ungatonga Un evento Che si è verificato Quasi agli antipodi Rispetto al nostro paese Ma che tutti I sismografi italiani Hanno registrato Quella del vulcano Polinesiano È l'esplosione Più potente Mai registrata Da quando si fanno Misurazioni di pressione Mentre l'attività sismica Rientra nella normalità Infatti Dei 420 sismici Che ogni anno L'istituto monitora Ce ne sono sempre alcuni Che rappresentano Le ecodiscosse molto forti Avvenuti in luoghi Del pianeta Lontanissimi L'evento è stato rilevato Dalle nostre stazioni Di monitoraggio sismico Dopo l'esplosione Avvenuta Alle 17.26 di sabato Ora delle Tonga Che corrisponderebbe Alle 5.26 Ora locale Le onde sismiche Generate a seguito Dell'esplosione Si sono propagate All'interno del pianeta Terra E sono arrivate Praticamente Fino alle nostre Stazioni di monitoraggio Questa mappa Si vede Che il vulcano Si trova in questa zona Grosso modo E le onde sismiche Che hanno percorso Una traiettoria diretta Cioè Hanno attraversato Il pianeta Terra Dall'interno Sono poi Arrivate Fino da noi In Italia Il tempo di propagazione È di circa Un'ora Quindi sono stati Estremamente veloci L'eco dell'esplosione Dell'isola polinesiana Potrebbe anche Non limitarsi Alle onde sismiche E a quelle acustiche Che ancora viaggiano Nell'atmosfera Il vero pericolo Potrebbe venire Da cambiamenti climatici Dovuti alla dispersione Di anidride solforosa Che assorbe E riflette La radiazione solare E provoca quindi Un raffreddamento Del clima Eruzioni vulcaniche Di una certa intensità Non tanto per L'avevenza E la forza Dell'esplosione Che l'accompagnano Ma per La quantità di materiale Cenere Anidride solforosa Anidride carbonica Immesse nell'atmosfera E tanti altri Composti Le eruzioni vulcaniche Chiaramente Sparano Nella nostra atmosfera Dei gas E dei prodotti Che in qualche modo Possono contribuire O a schermare Parzialmente Raggi solari O a imprigionare Il calore Che i raggi solari Portano sulla superficie Del nostro pianeta Il cosiddetto effetto Serra La parola passa adesso A Lucrezia Sandri Per conoscere Argomento Aspite della puntata Di questa sera Dintorno alle 9 In onda Al termine Del nostro Telegiornale Buonasera Grazie della linea Questa sera parliamo Di tipo Turismo Industriale Pratese Questo nuovo Prodotto turistico Lanciato dal comune Di Prato In cui le fabbriche Raccontano storie E diventano Protagoniste Accogliendo i turisti Ne parliamo questa sera Con l'assessore al turismo Del comune di Prato Gabriele Bosi Buonasera Buonasera a voi Quindi appuntamento Subito dopo il Tg Con intorno alle 9 Linea allo studio Farà tappa anche a Prato La torne teatrale Di Giorgio Panariello Con lo spettacolo La favola mia L'appuntamento È per il 22 23 marzo 2022 Al teatro Politeama Un one man show Unico In piano stile Panariello Tante risate Un pizzico di riverenza Attualità E grandi classici Del suo repertorio Saranno questi Gli ingredienti Del nuovo spettacolo Nel quale Giorgio Racconta E si racconta Ripercorrendo In una veste inedita E attuale Gli ultimi 20 anni Che lo hanno visto Protagonista Tra teatro Cinema E televisione I biglietti Per lo spettacolo Sono in vendita Su www.ticketone.it Ed è il momento Dell'agenda Vediamo insieme Gli appuntamenti In programma Domani A Prato E dintorni Torna domattina In piazza Del mercato nuovo Il mercato Di terra di Prato Alle 15 Con ritrovo Presso l'ingresso Di via Traversa Del Crocifisso Passeggiata Alle cascine di tavola E al rimessaggio Delle barche Al termine presentazione Del programma 2022 Della rassegna Passeggiate Tra storia e natura Alle 16 Nella sala consigliare Di vaiano Incontro dal titolo Da Dante A Firenzuola Bartolini Alle 17 Al teatro Fabbricone Per la rassegna Met ragazzi Lo spettacolo Kafka E la bambola Viaggiatrice Alle 17 Alla biblioteca Lazzerini Marco Giusti Autore del romanzo Storico Il cerchio e la croce Le memorie intime Di Ottavio E Simenes D'Aragona In dialogo Con Diana Toccafone Domani alle 21 Domenica alle 16 Al teatro Politeama Lo spettacolo Le signorine Di Gianni Clementi Con Isa Danieli E Giuliana De Sio Regia di Per Paolo Sepe Fino a domenica Al teatro Metastasio Lo spettacolo Giusto La fine del mondo Diretto da Francesco Frangipane Infine Ultimi giorni Per visitare La mostra Turandotte L'Oriente Fantastico Di Puccini Chini e Caramba Allestita fino a domenica Al Museo del Tessuto A causa di lavori Urgenti e necessari A seguito di un incidente Dalle 22 di questa sera Alle 6 di domani Sabato 22 gennaio Sarà chiuso Lo svincolo Di Prato Est In entrata Direzione Firenze E questa era L'ultima notizia L'informazione di TV Prato Termina qui Vi lasciamo adesso Alle previsioni del tempo Come sempre A cura del Consorzio LAM E a seguire Intorno alle 9 L'informazione torna domani Alle 13.45 Con il Tg del Giorno Grazie per averci seguito E arrivederci Stop! Purtroppo Questo non succede Solo nei film Ma se vuoi stare tranquillo Un modo c'è Affidati A veri professionisti Prato all'armi Una sicurezza da Oscar Abbiamo scelto Gli uomini giusti Perché vogliamo Che i nostri clienti Si sentano protetti Ma anche sereni Baby gotta head down Baby gotta head down To the ground Looking for a stranger Looking for a stranger To love Prato Polli Professionisti della sicurezza Non guardie Buonasera a tutti La carta E la pressione al suolo Che vedete alle mie spalle Ci mostra Un robusto campo Di alta pressione Che interessa L'Europa occidentale Centrato sulle isole britanniche Tra la Gran Bretagna E la Francia Ed estende la sua influenza Anche alla nostra penisola Soprattutto La parte centro-settentrionale Andiamo a vedere Quindi la previsione Per il fine settimana Bel tempo Cielo sereno Su tutta la regione Domani mattina Si segnala Un forte calo Delle temperature Le minime scenderanno Fino ai meno 4 O meno 5 gradi Sulle zone interne Intorno invece Alli 0 o 2 gradi Sulla costa Estese gelate Quindi Su gran parte Della regione Per quanto riguarda La giornata di domenica Ancora bel tempo Cielo in prevalenza Sereno Poco nuvoloso Salvo il transito Di nubi alte e sottile Qualche velatura Nel corso della giornata Nubi basse Invece In serata Sulla parte costiera Sull'arcipelago E la costa centrale Temperature Sono previste In lieve aumento Fino ai 9 12 gradi Per quanto riguarda Le massime E' tutto per oggi Grazie per l'attenzione E una buona serata Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione